ok domenico stefania ciao a tutti ciao abbiamo sentito i punti ti accompagno contando da 5 a 15 4 3 2 1 lo sto vedendo e lo vedo su una giostra una di quelle giostre rotonde con i cavalli le tazze le carrozze le carrozze e lo vedo che lì sopra che gira sta girando ti da l'autorizzazione si cavalli carrozze detto si cavalli carrozze macchine dei pompieri con le giostre che girano così che vanno su e giù quei cavalli così ancora la giostra vuole andare avanti con la giostra vuole scendere su quale mezzo è seduto ma io e lui lo vedo in piedi di fianco una giostra di fianco al cavallo e mai messo in piedi quindi non è sopra non va su giù ma è appoggiato sulla 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 base su cui appoggiato il cavallo come se fosse un giostraio dire il vero più che un più che una persona che usa la giostra per divertimento nelle giorni cavalli carrozza ci sono bambini o persone no non c'è nessuno c'è solo lui su quella giostra ok lui è il giostraio dire di si guarda chi sale chi scende e non sale per divertirsi perché potrebbe anche stare sul cavallo e da solo si diverte passa il tempo e lì in piedi che come se guardasse quello che succede chi sale sulla giostra e chi invece scende dalla giostra anche se in questo momento la giostra e sgombra non c'è proprio nessuno va bene vediamo la vibrazione di domenico 70 miliardi consapevolezza 120 per cento psp e 70 la ts e 30 la pia vite precedenti 1948 cervello 6,2 domenico interferito da entità eteriche si quali io vedo un militare che lì presente da qualche anno vedo non c'è più oida è collegato al militare un rettiliano basta possiamo dire il tuo attuale lavoro domenico non nello specifico ma meno l'ambito ok domenico lavora in carcere c'è una connessione tra militare anfibioide cioè tutto quello che è collegato mondo militare guerra e l'anfibioide erettiliano più o meno anche sì 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 vedo che si è collegato tutto collegato c'è un nome riguardo c'è un progetto riguardo domenico e un nome al progetto c'è un progetto sì e il nome lo vedo allora lo vedo come vedo un'immagine intanto come un fascio di spine di grano legato da praticamente un filo che sembra un po un filo spinato è proprio come fosse la parola grano la parola grano la parola perché lo stesso spiegazione del nome del progetto ma lo vedo che allora il allora il progetto e per lui è stato messo in atto perché è come se intanto il grano li potesse dare da mangiare invece il filo spinato e perché non acceda facilmente alla parte di della sussistenza no come se dovesse passare attraverso un sacrificio per poter avere soddisfare bisogni di base così mi rimanda questo entità mentali allora ne vedo ne vedo una legata un'entità familiare questa legata al senso al senso di colpa senso di colpa ci vedo tre cose senso di colpa senso dell'abbandono e del dovere è come se fosse un con queste tre cose in contemporanea insieme vedo che sono una un po lo specchio dell'altra e ci sono tutte e tre e vedo che però è un'entità mentale familiare questa quindi a lui si collega già un entità mentale paterna e materna soprattutto questa è la rete di livello 5 ok breve precisazione va bene familiare no lo dico tutti familiare e subito uno pensa quindi sono condannato in realtà lui l'accetta si viene da una famiglia dalla famiglia o viene da contratti di altre vite o viene dalla roulette rossa non cambia assolutamente nulla quindi se viene dalla famiglia e lui l'accetta non cambia nulla è sempre un'entità mentale no perché sennò sembra la tara familiare quindi non è scampo no certo è più semplice visto che si viene accompagnati durante la vita a credere che la tua famiglia a questa questo stampo no 5 poi poi ne vedo uno rispetto al fisico nel corpo come di non accettazione completa di sé di sé sia come fisico come corpo e sia del suo corpo in questo spazio come dire non accettare completamente pienamente di avere un posto vogliamo dire nel mondo quindi di di avere un posto nel mondo e di avere diritto avere un posto come se non ci fosse al cento per cento la collocazione di lui non avesse trovato ancora un posto in cui star bene ma anche se non si sentisse proprio il diritto di occupare uno spazio proprio una cosa fisica la vedo questa non tanto una cosa emotiva mentre è proprio una cosa fisica come se non riuscisse mai proprio radicarsi dove sta a casa con la famiglia non si sente radicata non si sente centrato non si sente nel posto giusto a casa con la moglie non si sente nel posto giusto c'è mai completamente al posto al lavoro quindi proprio come se in ogni posto dovesse cercarne un altro che numero che livello 4 ok poi poi basta di entità mentali non ce ne sono più collettive quella lì che dicevo la prima che la numero 5 e ce l'hanno anche i suoi genitori e ce sono collegati anche loro ad una collettiva impianti allora ne vedo una posizionata dietro la scapola destra ma è come se toccasse la scapola destra alla sinistra quindi è posizionata lì in mezzo ne vedo uno ora questo impianto fa sì che possa essere tirato indietro come fosse un gancio quindi secco diciamo l'entità qualcuno mette il dito lì o mette un gancio all'azione di fare da gancio indietro vedo uno dietro la schiena quindi nella parte bassa nella parte lombare non vedo il ginocchio destro e vedo qualcosa all'interno della mano destra anche della mano sinistra si sono al pari al pari sì ne basta ok nome della ps e della p e di dominico vedo la pf che si chiama flin fl ynn e la p e invece ne vedo come jordan e lunga ortan se jordan jordi anche di collezione finale va bene causa esoterica di problemi alla scapola destra se ne ci vedo l'impianto l'impianto che va di radiarsi all'altezza delle scapole e come se li risuonasse non è non è sempre attivo questo impianto come se si attivasse si attivasse in particolare quando lui cerca di fare dei passi di cambiamento lì si attiva in modo da ricordarli diciamo di stare al suo posto di tornare indietro di tornare indietro per sentirsi al sicuro causa esoterica del bruciore allo stomaco che si accompagna al bruciore agli occhi allora poi ci vedo diciamo il corpo emotivo ci vedo una parte grande delle motivi di una parte emotiva sia quella lo stomaco che quella gli occhi sono legati al lavoro sono legati al lavoro e gli occhi sono legati al fatto di non voler vedere più quello che sta vedendo le situazioni che sta vivendo e la parte lo stomaco li sia li si attiva quando simbolicamente non digerisce più una situazione quindi hanno la stessa funzione diciamo del spingerlo a un cambiamento una trasformazione nonostante abbia questo gancio questa questo impianto dietro la schiena lui comunque si porta cerca sempre di portarsi a a non essere gestito non essere influenzato e quindi il corpo li risuona in quel modo affinché lui abbia la forza il coraggio di fare quel passo dei passi di cambiamento se questo lo stomaco che gli occhi di infiammazione intestinale e fame perenne io vedo che lui non sopporta tanto la caffeina cioè il suo intestino fa e come se ogni tanto dovesse rilasciare questa questa sostanza cioè come se ci fosse un'introduzione di un generale di un eccitante perché può essere ateo caffè una sostanza che lui usa anche per tenersi sveglio per per essere reattivo però vedo che dopo qualche giorno diciamo quattro cinque sei giorni insomma abbastanza ciclica questa cosa è come se avesse l'intestino respingesse cercasse di far uscire questa sostanza ci andrebbe diciamo una dovrebbe disintossicarsi per io vedo così due settimane un mesetto provare proprio a depurare e resetta riparte da capo ok questi problemi fisici sono collegati anche a degli impianti questo dell'intestino dici no quello dell'intestino no quello degli occhi quello della dello stomaco sono legate una parte emotiva e invece il problema la scapola si è legato all'impianto e veniamo al lavoro carcere versus naturopatia lui già esercita la fatica è diviso tra due mondi da passione la naturopatia la le cose che vuole fare da quello che ci ha descritto e il lavoro certo che fa da tanti anni dov'è conosciuto la base si impiede in due scarpe ma allora io li vedo lo vedo anche delle mani quando vedeva diciamo le impianti però vedeva anche la parte energetica delle mani no cioè la possibilità che legata alla naturopatia non tanto perché lavori con le mani con la naturopatia quanto perché vedo che ha una sensibilità nel sentire nel capire qual è il problema della persona e lo fa energeticamente lo fa la persona entra lui comunque come se sentisse l'energia della persona attraverso le mani per dire entra dalla porta e lui ha una sensazione proprio in questa zona di quello che del cliente che sta per arrivare intanto senza ancora averlo conosciuto o di quello che davanti che le racconta una cosa ma lui percepisce magari il punto chiave e vedo che il cambiamento lui non lo sta ancora facendo non ha ancora deciso per quell'entità mentale che è molto legato per dire alla famiglia no perché non risponde solo alla sua preoccupazione questo è il lavoro fisso e faccio un salto nel vuoto lui l'avrebbe già fatto lui a questo rimando familiare del non lasciare quel posto perché è un posto garantito quindi lui sta rispondendo ai suoi genitori non cambiando però voglio dire però lo può fare lo può fare può avere successo in quel campo però decidendo che non risponderà più ai bisogni degli altri ma solo ai suoi vuol dire anche che oltre oltre che mentalmente emotivamente ci dovrà essere anche una presa di posizione del suo spazio no come prima ci raccontava quindi o i clienti questo è il mio spazio nessuno mi deve disturbare quindi mettere dei paletti con con azioni quindi riferito ai stai riferendo ai familiari che lo disturbavano un po come se quello non fosse un vero lavoro quindi potesse disturbare senza grosse remore non è un non è un vero lavoro e non è un lavoro serio questa nell'idea del padre insomma erano le idee del padre va bene chiamiamo il nonno c'è come lo vedi allora energeticamente lo vedo un pochino bloccato non lo vedo ancora non lo vedo luminoso lo vedo come se fosse ancora attaccato alla terra collegato alla terra come se girasse ma ogni tanto tornasse qua tornasse qua tornasse da lui tornasse dai dai figli lo vedo che ancora non è passato diciamo lo vedo anche un po fisicamente come lineamenti lo vedo un po provato un po provato con parecchie rughe come se il viso fosse segnato parecchio segnato ma da cosa da quel lavoro del lavoro cioè come se la sua esistenza l'avesse dedicata tanto tanto al lavoro e non si fosse concesso anche qua l'entità mentale non si fosse concesso di di riposarsi di riposarsi di essere tranquillo ma da sempre un problema per la testa è legato alla terra in questo momento sì sì ancora sì è legato a domenico sì domenico medita tre volte circa gli è venuto per potentemente l'idea in mente l'idea durante la meditazione che il nonno del nonno che è venuto in mente il nonno ma io vedo che il nonno è collegato a lui anche quando lavora e lo vedo in particolare dell'ambito lavorativo è come se il nonno quando li torna in mente non ritorna tanto in mente per bei ricordi ma con una sensazione un po di di amare in bocca un po di aver lasciato sia un vuoto ma come se il nonno gli rimandasse il messaggio di non di non fare la sua fine cioè quando si presenta compare e per come li volesse ricordare di dedicarsi a ciò che gli piace cioè ciò che di cui ha bisogno quindi è proprio un po un memo no un memo e così quindi si presenta soprattutto quando vedo quando lui ha delle difficoltà sul lavoro decide di cambiare ma poi poi fa il passo indietro è come se il nonno comparisse per cercare di ricordarli la vita che ha fatto lui e che lui può non ripeterla ecco insomma come fosse un incentivo ok il nonno cosa vuole dire a domenico che gli vuole bene che gli è sempre voluto bene che molto legato a lui diciamo è stato legato a lui effettivamente è proprio di potersi dedicare a se stesso alla famiglia sì ma come fosse al primo posto a se stesso che può incominciare a far quello di non fare come lui insomma un po il consiglio di base che la cosa di base che lui nella vita non ha potuto fare non si dedicato e quindi quando lo vede lui pensa che sia felice che sia felice cosa vuole dire a è un nonno materno materno no ma sì sì cosa vuole dire a sua figlia alla figlia vuole dire che è come se la vedesse molto pressata no le vuole bene anche lei per lei il messaggio è di dedicarsi più a se stessa e meno al marito meno la famiglia meno il marito dice che la vita è la vita è breve anche se lo sappiamo in questa frase ce l'abbiamo in mente tutti no che la vita è breve e di iniziare a dedicarsi a se stessa a fare cose che la divertono che le piacciono a uscire con le amiche così invece la vede le dice questo perché la vede la vede molto collegata al marito e con poca capacità decisionale e con poco ecco con poco spazio per fare ciò che le piace e anche mettere un po la parola in famiglia per le decisioni proprio ed è che c'è il marito in primo piano va bene chiamiamo tutti i disincarnati della tutte le generazioni di domenico davanti al portale aureo cioè se si presentano e perché vogliono entrare nel portale aureo vedo diversi bambini e adolescenti quindi di giovane età ma da parecchi ragazze che sono morti giovani che generazioni meno di quanto tempo fa intendi e tra 1800 1900 qualche generazione fa e qualcuno è morto lavorando vedo piccolo ragazzini ok vedete gli adulti si sembra comunque ne vedo le circa 150 stanno arrivando va bene se non vuole aggiungere qualcosa questo momento per farlo altrimenti gli diciamo di andare nel portale aureo di aureo di fatto si staccherà da tutto quello che è terreno e finalmente non sarà più nonno stanco che ha lavorato tanto ma sarà forma energetica le maschile e femmine che deciderà autonomamente legato scevro da interferenze impianti che anche disincarnati hanno sceglierà in maniera autonoma cosa fare o non fare da adesso in poi vedo che non gli deve più dire niente però si gira lo saluta e dice guardando verso il portale poi che molto bello che molto bello che lui vuole proprio andarci desidera andarci vedo che fa già dei passi verso il portale vedo che c'è sua mamma vedo che c'è sua mamma anche lì se non tranno insieme la mamma del nonno la mamma del nonno la mamma del nonno va bene diciamo che è una sessione abbastanza standard questa quindi di fatto quasi una solo una pulizia energetica tranne fosse l'ultimo punto che è quello più singolare da bambino domenica o domenico frequenta un posto dove si tengono corsi di arti marziali il maestro è un tizio particolare a sua insaputa disse alla figlia bambina che domenico sarebbe stato suo marito ma domenico non lo sapeva questo uomo che non c'è più domenico si chiede se lo influenza perché appunto a quando è scomparso ha saputo che era un tipo particolare un ex monaco era un ex monaco faceva riti e aveva appunto previsto il matrimonio della figlia che avvenne poi appunto dopo la figlia lo sapeva lo disse poi da moglie a domenico insomma domenico si è fatto alcune domande chiamiamo e se c'è c'è non è contento di esserci nel senso che non vedo seccato seccato e non libero ancora adesso è interferito ancora adesso vuole una vettura è più seccato o meno seccato il più rilassato la preda lo vedo che in vita è stato molto interferito vedo che a fianco lui vedo degli dell'entità diciamo tipo del che lui chiamava le guide che le davano delle indicazioni dei suggerimenti rispetto e le cose che sarebbero successe o che stavano succedendo quindi dei consigli delle frasi delle delle parole e lui si dirigeva un po in una direzione un'altra seconda del suggerimento che aveva avuto vedo dei riti con come si può dire un calderone no vedo del fuoco ecco quando ho detto che era un monaco che era stato forse in tibet adesso mi sembra di ricordare ho pensato magari dei riti di quel genere lì però invece vedo che sono riti delegati da quello che ha raccontato ma proprio più più appunto col fuoco con dei pezzi di carta vedo con un pestello se si dice così no vedo così e bruciava delle cose anche ma tipo dei legamenti ecco dopo una cosa un po più casalinga italiana piuttosto che tibetano altri legamento quindi figlia domenico la frana sì infatti quindi è lui che le ha spinte a sposarsi si non è attraverso lui che si sono sposati cioè nel senso che lui non aveva il potere di metterle insieme però comunque lui ha influenzato la figlia affinché la figlia andasse verso lui quindi domenico è stato d'accordo a stare con la figlia perché le piaceva si trovava bene diciamo quella più influenzata stata la figlia che magari si sarebbe diretta altrove quindi diciamo che tutto questo legamento ha creato si un energia una frequenza che ha fatto sì che la figlia poi credesse ancora di più però in qualche modo è stata scelta anche da domenico cioè se domenico non aveva detto sì tutto questo discorso decadeva poteva far tutti i reti che voleva però certo che questo ha influenzato la figlia ha dato sempre più valore alla figlia a credere che che fosse lui fosse lui fosse l'unico quindi lo vedo lui che faceva parecchi intrugli parecchie misture parecchie parecchie ditte ma anche per altre persone vedo che veniva pagato per fare questo oltre alla cosa loro ma vedo che era parte del suo lavoro c'era come un come si può definire non mago no era uno di quelli da cui si va per farsi fare legamenti d'amore fatture bla bla sì 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 faceva anche quello era uno dei suoi campi dei suoi ambiti nascosto chi 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 aveva bisogno di questo sapeva che lui lo faceva nascosto ai più sì diciamo che domenico sghignazza e annuisce quindi mi sa che un po lo sapeva o lo intuiva o lo saputo dopo un po lo sapeva già quando non quando era piccolo ma negli anni lui ha immaginato perché appunto domenico come dicevo che attraverso le mani lui sente ha delle consapevolezze di alcune cose che non a livello cosciente consapevole ma a livello un po più sul piano sottile lui sta le cose per cui questa percezione ce l'ha già avuta quando aveva che ne so 16 17 18 20 anni insomma da lì in poi l'ha capito sì mi senti sì sì va bene ma scusa cosa vuole fare il monaco ma intanto si sta togliendo tutti gli abiti perché io quando è arrivato l'ho visto con una con un abito tipo rituale da monaco c'è più che altro la vedo con un tipo un mantello e lui se l'è calato giù sarei tolto si è svestito dagli abiti che testina in vita riapriamo il portale aureo ci vuole andare o no io ne frega niente che si è girato non andiamo lì allora con tutti i legamenti le cose che ha fatto è passato ok con queste nuove condizioni solo la vibrazione di domenico è cambiata era 70 non lo vedo 80 cambiata di 10 10 milioni 10 miliardi la legatura d'amore era presente inizio sessione ed è presente adesso se c'era vabbè cera 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 e rappresenta livello mentale da questa questa cosa del fatto che la moglie gli abbia detto che che il padre aveva fatto questa predizione ha portato domenico a pensare che non era stata una sua scelta no quindi una scelta esterna cosa che non è nel senso che no lei ha avuto un'influenza e lei si è portata verso domenico molto spinta mentre domenico no domenico ha scelto no si può dire così e quindi in qualche modo il legamento era mentale per lui era come dire ma allora non è di peso da me ma allora sono stato condizionato no quindi non una cosa concreta ma una cosa proprio più a livello di pensiero c'è stato questo pensiero costante non tutti i giorni ma questo pensiero che lo portava lì da che la moglie gliel'ha detto quindi è stato influenzato no non è stato influenzato lui del legamento è iniziato a comparire come pensiero da che la moglie gliene ha parlato la moglie la fiamma no però lui lo sa che la moglie non è la fiamma lo sa già l'immagine bello direi che un'anima gemella non corrispondente alla fiamma come fosse un grado in meno dovessi dire se una legge una gemella può avere cinque come se fosse quattro c'è si discosta ancora da dalla fiamma diciamo esiste la fiamma vedo come non so se una cosa che ha senso però vedo come se la fiamma esisteva prima di sposare lei come se ci fosse una condizione per una fiamma e poi nel momento in cui ha sposato lei come se la fiamma non fosse più nella dell'incontro nella condizione d'incontro la scelta che lui ha fatto l'ha portato alle garze lei e la fiamma è come se se non probabilmente a lui non interessava più incontrarla quindi come se si fosse dissolta cioè cambiato l'universo in cui lui si trova la linea temporale il tempo insomma su che avete le condizioni perché ha cambiato il suo desiderio intento ma la domanda è il monaco io chiamo il monaco sì perché ha fatto questo legamento probabilmente quando i due erano ancora dei bambini sì qual è la causa esoterica vite precedenti un gioco perché le è stato suggerito dall'entità dalle sue entità scusa vabbè è una predizione che l'è arrivata come tante altre anche su delle case su delle proprietà che l'è arrivata da queste guide che aveva vicino per cui a cui lui si fidava e si affidava 90 per cento è e quindi quando è arrivata questa informazione lui la data per vera per buona però doveva capire forse non viene in mente che se una cosa è così punto non hai bisogno di fare un legamento per andare a valorarla non sei così così invece lui non si è posto il dubbio lui ha voluto forzare la mano in quella direzione per la figlia con le guide una delle cose più insopportabili del mondo le guide io sento le guide io mi sento canalizzato mi hanno detto di recente sono un privilegiato le guide mi dicono gira destra gira sinistra fai questo fai quello perché l'essere umano ha tanta voglia di essere burattino quindi pinocchio perché è burattino perché tutti vogliono l'essere superiore che ci dice cosa fare perché nessuno si prende la responsabilità di essere l'essere superiore qual è qual è la vera causa esoterica un cervello utilizzato in una percentuale limitata dalle entità una natura umana non so qual è il motivo ci mettiamo tutti noi è dentro alcuni di noi hanno capito questa cosa che sono i padroni sono i guidatori del treno altri vogliono fare i passeggeri mentre lo guida la guida di guide qualcuno fa questo mestiere con le guide e guide mi dicono che l'angelo custode mi dice che e allora io vedo il cervello vedono il cervello lo vedo da sopra e questa parte era ne abbiamo parlato tempo fa di aree del cervello che si attivavano aree che non come se aree del cervello avessero una programmazione e qua quando mi hai fatto quella domanda di nuovo la visione del cervello da sopra non per dire è come se ci fosse un'area dove c'è questo programma all'interno del cervello che dice non sei completo non sei completo per vivere bene per vivere in modo completo sentirti realizzato il bisogno di qualcuno che ti dica cosa fare perché così sei più sicuro perché così non rischi di tuo poi non è vero è come se fosse un programma messo nel cervello che per qualcuno e no è abilitato per tutti ma qualcuno lo disabilita cioè nel momento in cui ci si accorge che o si fa l'esperienza che questo che le guide non servono che che tu con l'intento puoi far arrivare una cosa puoi andare verso una cosa una realizzazione questa parte come se si disabilitasse fino a spegnersi però è come fosse presente già di nascita per tutti gli esseri umani e quindi una fregatura cioè e quindi si tratta di riuscire a capire essere consapevoli invece che che non ce n'è bisogno che si può raggiungere velocemente prima senza interferenze ciò che ciò che vogliamo è come se per disabilitare quella parte dovessimo attivare un'altra parte sempre un'altra area del cervello diciamo così no quindi la consapevolezza quest'area qua la consapevolezza fa sì che quest'area del cervello che io la vedo per me posizionata nel lato destro del cervello però magari non è significativo vedo che con l'accendersi di questa è accesa questo stand con l'accendersi di questa e questa si spegne sempre di più così no non ho capito quindi la se la guida si spegne si accende il tuo potere creatore più che la guida si spegne vedo come se due aree del cervello fossero fossero predisposte no allora una in nascita e una parte che attiva e ci dice hai bisogno di qualcuno che ti guidi per essere completo realizzato per arrivare al successo hai bisogno di qualcuno che ti guidi facciamo conto che sia un palloncino quest'area è già attiva ed è piena è un palloncino gonfio no quell'area che dice bisogna di essere guidato mentre quest'area che dice tu sei dio no tu puoi realizzare quello che vuoi e sgonfia e vuoto un palloncino sgonfio man mano che tu prendi consapevolezza che invece tu puoi creare con l'intento man mano che questo inizia a gonfiarsi quindi attivarsi questa comincia a sgonfiarsi così no se questo vale un po per tutto per esempio voglio fare voglio raggiungere un certo risultato devo cercare qualcuno che mi aiuti no sì sì se c'è un lavoro da solo è proprio che non significa non lavorare in team per esempio in alcuni casi con i mestieri non so soprattutto quelli creativi per forza si deve lavorare in gruppo non si cioè non so se per fare un vestito ci vuole uno che lo disegna uno che lo cuce uno che va a prendere le stoffe uno che lo vende lo stesso anche qualunque altro contesto merceologico però lo faccio da solo non trovo qualcuno che mi aiuta a qualcuno intanto che mi aiuta a decidere no che mi dice sì è giusto o no è sbagliato prima di tutto e poi una volta che ho deciso puoi anche trovare degli agganci affinché tu realizzi quello degli aiuti dei suggerimenti commercialista giusti per dire no però la decisione l'hai presa tu e tu stai creando attraverso la tua decisione che tutto si si colleghi e si allinei affinché tu arrivi lì no però sei stato tu ad attirare quello che doveva arrivare per arrivare là quindi il processo creativo è tuo totalmente tuo mentre nell'altro caso fai un passo è meglio se tu vai a sinistra per realizzare il lavoro che dei tuoi sogni fai un passo a sinistra poi ok adesso giro a destra quindi passo passo non sei mai autonoma indipendente e non stai creando ma stai seguendo degli ordini diciamo no va bene domenico sull'attenti cosa vuole fare arrivati a questo punto dell'analisi a domenico vedo che sta decidendo e nella fase del decidere del decidere che si vuole portare dall'altra parte quindi vuole fare questo salto no chiudere mi dice così chiudere gradualmente lì nell'arco di qualche mese no e però già iniziare a fare il passaggio quindi io vedo che lì sta venendo sta venendo in mente di ricominciare a contattare attraverso messaggi tra i clienti passati no quindi riprendere comunque contatto e vedo che ha l'idea di iniziare a seminare per per riprendere contatto e quindi ricominciare a fare le sue sedute vedo che c'è una programmazione in atto una decisione è una programmazione contemporanea vuole andare al cluster sì vedo un paesaggio con tante piccole tante piccole mongolfiere proprio piccoline che non sono mezz'aria ci sono sollevate da un metro da terra con quel cestello e con la mongolfiera è come se ci fosse un contratto anche più di uno per ogni cestello 2 tra le buca palloncini sono male mongolfiere però poi il resto le butta dice che non vuole perdere tempo a farle una per una si buttiamo l'est la spazzata via tutta si quando l'ha fatto dici di creare una d'eterno un qua non mi dice come lo crea non c'è più niente ha tolto tutto vedo che la d'eterno lo sta creando dalla fronte c'è sta uscendo un fascio di luce nella fronte e lo nello sta creando fascio di luce colorato in realtà ci sono tanti colori che lo compongono vedo il viola vedo rosso e del giallo e riesce proprio un fascio di luce un po a cono parte più stretta qua poi parte che si allarga e sta creando proprio un bel diametro di eterno l'ha creato adesso si è rilaccata dalla fronte ed è la bella molto bello ottimo non c'è pieno da fare qua quindi andiamo all'avatar guarda un'immagine che non aveva ancora visto la della dico per questo vedo la l'avatar in una gabbia c'è l'uomo energia dietro però vedo che come come location diciamo così c'è una gabbia come quelle dove si mettono gli animali così chiusa e seduto con tutte le sue cose però è chiuso dentro la gabbia eliminiamolo ok ha tolto tutto e falla d'eterno nello stesso modo di prima però vede molto più viola 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 rosa rosso arancio l'ha fatto molto grande benissimo con questa nuova condizione esistono ancora le entità e tiriche militare rettile anfibio eventuali no non c'è più niente è libero la 54 entità mentali e gli impianti come immagine scusami come immagine vedo sai quelle scatolette di sardine che si che si aprivano con con quella chiavetta di tanti anni fa ecco come detto ci sono ancora l'entità mentale vedo che è come se si fosse tolto tutto tolto tutto diciamo con questa chiave da scatoletta così come se avesse fatto arrotolare tutto e fosse scaduto tutto cioè nel senso queste immagini costa particolare nuova vibrazione 135 miliardi bene il doppio nuova consapevolezza 180 per cento psp 55 la ps peter precedenti nel 1658 cervello 3,9 per cento la ps sempre fin la ps sempre jordan sì ma sono unite e come se i caratteri anche del nome si si fossero intercalati sono proprio insieme come formare un'unica sagoma come si chiamano adesso tutti insieme c'è un incrocio di di nomi come se si fossero unite le lettere il messaggio finale della ps della p e il domenico a domenico asce la p e che parla e dice che si che ora si può dedicare finalmente a se stesso fare ciò che desidera e scoprire anche altre cose che desidera perché questa della 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 naturopatia e mi sta dicendo che una fetta di quello che lui potrà fare di quello che lui farà no che apre però la porta ad altre cose altre sensibilità e quindi lo invita a decominciare il primo possibile oltre il discorso lavorativo ma anche il discorso della ricerca di cose che può anche aggiungere rispetto alla naturopatia quindi di di per vizi che può offrire alle persone però dice che è attraverso questo che lui potrà proprio conoscere se stesso sempre di più relativamente al resto si dice che la questa lo dice la ps che la che la storia familiare è una storia è solo una storia cioè è solo una storia in quanto storia è passata ma in quanto storia non è neanche completamente vera che dice che quello che fa della storia familiare è solo parzialmente quello parzialmente vero c'è l'idea che lui ha della sua famiglia le credenze sul senso di colpa tutta quella parte che adesso non ha più mente mentale no che però anche attribuisce la sua famiglia è tutta una parte che che quando si confronterà quel genitore può capire profondamente che era una finzione anche prima c'è il messaggio proprio più sulla consapevolezza anche sul sull'osservare in modo più più sereno le cose in modo più sereno le cose e di fare ed incominciare a fare il messaggio finale che me lo stanno dando insieme di non pensare a quando farai domani dopo domani iniziano quella cosa ma di proprio metterla come condizioni di base quello della ricerca di se stesso e del fare il fare concretamente ok chiediamogli di passare le informazioni che ha acquisito in questa sessione alla moglie figlia o due figlie due figli e tutti quelli a che a cui vuole passarla che è una specie di cinema finale se vogliamo comunque passiamo le informazioni la stessa cosa vedo che le passa una sfera è una sfera che come se lei la mettesse in mano alla moglie e figli alla mamma e papà ultima frequenza check frequenza si vedo che non è ancora stabilizzato sulla sua frequenza ottimale vedo che sono c'è un aumento graduale di come di 10 milioni di 10 miliardi 10 miliardi così si stabilizzerà 230 così però poi per lui rimane un po troppo però mentre faceva questo questo passaggio diciamo di consegne di informazioni vedo che che c'è stato un aumento di frequenza ok siccome ha imparato a fare bene gli ad eternum adesso se ne fa uno solo la scena la casa 1 e lo lascia nello studio di naturopatia se esiste se una parte della casa tanto meglio è uno grande 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 lo lascia nel carcere sembra l'idea e poi ne mettiamo uno grande 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 in tutte le carceri d'italia la prima messa nel carcere ne messo uno che copre tutto il carcere non all'interno che lo ingloba perché in casa l'ha fatto dove lavora diciamo deve fare naturopatia anche ed è voluto mettere anche uno sulla porta che è un po come una una porta cioè alla funzione di tenere fuori i disturbatori come il gattino dei cinesi con la zampina che va giù su che dovrebbe favorire l'entrata di denaro ma scoperta una sfiga quello fatto la rogna quello va bene abbiamo finito lo salutiamo come lo vedi ultima immagine sempre sulla giostra da solo giostraio no la gesta non c'è più come perché giostraio ma giostraio perché lui si rende conto si rendeva conto che era un era un gioco no che quello che viveva quello che vive quello che viviamo è un gioco lui questo ce l'ha ce l'ha chiaro che un passaggio oltretutto che proprio come fosse un giro di giostra e poi si scende però è come se tenesse tutti fuori c'è nel senso che lui è consapevole ma si rende si è reso anche conto che era l'unico crederla così c'è all'interno del suo contesto che gli altri non non hanno questa percezione ma la prendono seriamente ecco come fosse una cosa vera abbiamo finito